è Lili Gruber, da sette, Urbano Cairo, ma che pacchia lo scontro sugli immigrati, che pacchia, che pacchia, ma come ci sguazza bene Lili Gruber, la brava, bella e buona Lili Gruber, che c'è lo scontro sugli immigrati, lo scontro sugli immigrati. Io ho sfogliato il fatto quotidiano online e ho visto che sul fatto quotidiano online odierno c'è un video della sette con Lili Gruber dove si intrecciano amorevolmente Matteo Salvini e Laura Boldrini. Matteo Salvini e Laura Boldrini. Matteo Salvini che ha la sua posizione sugli immigrati e Laura Boldrini che ha la sua posizione sugli immigrati. e se ne dicono di santa regione, se ne dicono di santa regione, capito? E in mezzo ci sta Lili Gruber. Dio che pacchia per Lili Gruber questa situazione, che pacchia! E se no non saprebbe che cosa fare Lili Gruber, che pacchia lo scontro, lo scontro tra Matteo Salvini e Laura Boldrini, oppure che so, lo scontro tra Matteo Renzi, Matteo Renzi e D'Alema o Pietro Grasso, che so, lo scontro tra Luigi Di Maio, Luigi Di Maio e magari Vittorio, come si chiama, Vittorio Sgarbi. Che pacchia, che pacchia! Vivere in mezzo alle contraddizioni di Lili Gruber. Che cosa faresti Lili Gruber? Se non ci fossero i contrasti Lili Gruber? Ma quanto sei fortunata Lili Gruber? Che ci sono tutti questi contrasti. Anche se non ci fossero tutti i contrasti, che faresti Lili Gruber per campare? Che faresti per campare Lili Gruber? Ringrazia il signore Lili Gruber che ci sono i contrasti. Beh, beh, ma lo diceva Friedrich Nietzsche, il grande Friedrich Nietzsche. Una delle condizioni essenziali dell'affermazione è la negazione e la distruzione. Tu, Lili Gruber, ti metti in mezzo tra l'affermazione e la negazione e la negazione. E tiri la tua mesata, Lili Gruber, ma che bello il tuo lavoro in un mondo pieno di contraddizioni. Lili Gruber, che pacchia, che pacchia, che pacchia! Beh, cari amici, io ho detto la mia, io ho detto la mia, cari amici. E adesso voi, se volete, dite la vostra su Lili Gruber. Io le voglio tanto bene a Lili Gruber, che lavora alla 7, la 7 di Urbano Cairo. E Urbano Cairo è il padrone anche del Corriere della Sera, capito? Beh, a tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni. Beh, a tutti, tanti cari saluti.